Oroscopo Sicilia, nuova puntata. Scopriamo insieme le previsioni astrali per la giornata di oggi. Ariete. La giornata inizia con una grande energia e voglia di fare. Potreste essere tentati dall'idea di dedicarvi ai nuovi hobby. È il momento perfetto per organizzare un'uscita con amici o famiglia. Sul lavoro mantenete un atteggiamento proattivo e vedrete risultati positivi. La serata sarà ideale per rilassarvi. Toro. Finalmente arriva il weekend e potete concedervi un po' di relax. Dedicate le giornate alle persone che vi vogliono bene, organizzando un'uscita o una serata insieme. Questo vi aiuterà a ristabilire una complicità che forse si era un po' affievolita. Siate sinceri e aperti con chiamate. Gemelli. Il weekend inizia con una sensazione di leggerezza e fluidità. Gli impegni personali si svolgono senza problemi, permettendoti di goderti il tempo libero. Esamina le tue emozioni con obiettività, prendendo nota di ciò che è veramente importante per te. Rilassati e concediti momenti di piacere e riflessione. Cancro. Le sfide continuano, ma la vostra capacità di adattamento sarà fondamentale per superarle. Gli imprevisti e le incomprensioni potrebbero rallentarvi, ma con una mente serena riuscirete a trovare le soluzioni. Dedicate del tempo a voi stessi per ricaricare le energie. Ricordate, sempre che adesso il cielo è della vostra parte. Leone. La vostra voglia di godervi il tempo libero sarà più forte che mai. Pianificate attività che vi permetteranno di scaricare le energie accumulate durante la settimana. Non lasciate che piccoli contrattempi rovinino la vostra giornata. Godetevi ogni momento con entusiasmo e con le persone che amate. Vergine. La giornata si presenta serena e favorevole per le relazioni personali. Sarete portati a riflettere su come migliorare il vostro benessere e quello dei vostri cari. Gli astri vi offriranno opportunità per rafforzare legami e chiarire malintesi. Un'attività rilassante o un hobby potrebbe offrirvi un piacevole diversivo. Bilancia. Finalmente il weekend. Anche se la settimana è stata difficile, oggi potreste iniziare a sentire un po' di sollievo. Prendete la vita con filosofia e dedicatevi alle attività che più vi piacciono. Una giornata di relax vi aiuterà a recuperare le energie spese. Passate del tempo all'aria aperta per infrescare la mente. Scorpione. La giornata di oggi porta con sé un mix di energia e serenità. Approfittate di questo equilibrio per dedicarvi alle attività che vi appassionano. È un momento favorevole per socializzare e creare legami significativi. Siate aperti alle nuove esperienze e lasciatevi guidare dalla vostra intuizione. Sagittario. Giornata all'insegna delle emozioni contrastanti. Cercate di mantenere l'equilibrio interiore e di non lasciarvi sopraffare dalle tensioni. Dedicate del tempo alla riflessione e alla cura del vostro benessere mentale. Evitate di prendere decisioni importanti in un momento di confusione. Capricorno. Questa giornata vi offre l'opportunità di rilassarvi e rigenerarvi dopo una settimana intensa. Dedicate del tempo a voi stessi, indulgendo in attività che vi portano gioia e serenità. Riflettete sulle vostre esperienze e imparate dagli eventuali errori. Acquario. Oggi potreste sentire una spinta verso l'avventura e l'esplorazione. È il momento ideale per fare qualcosa di diverso e stimolante. Siate aperti alle nuove esperienze e lasciate che la vostra curiosità vi guidi. Fate attenzione a non lasciarvi trascinare troppo dalle emozioni e mantenete sempre un equilibrio. Pesci. Sarà una giornata all'insegna dell'ispirazione e della creatività. Ascoltate il vostro cuore e seguite le vostre passioni. Vi soddisperà riuscire ad esprimere il vostro sé autentico attraverso l'arte o la musica. Concedetevi il tempo per coltivare le vostre passioni e nutrire la vostra anima. Si conclude qui questa puntata di Oroscopo Sicilia. Io vi auguro un buon fine settimana e vi aspetto domani con una nuova puntata.